Quarto giorno di allenamenti per i giovanissimi e allievi, i giovanissimi lo vedete con la casacca bianca e miste e divise perché sono i nuovi che ancora annunciano il corredo societario. Con la maglia gialla sono gli allievi, usiamo la respirazione, allora guardate, facciamo così, ogni volta che vi do la respirazione approfittatene cavolo perché non sappiamo che cosa facciamo dopo, ok? Quindi recuperiamo, anche quando stiamo fermi, stretching, allunghiamo questa gamba, andiamo sulla punta, alziamoci, sesto, sinistro, andiamo giù con la schiena, ok? Facciamo questi movimenti, ok? Che non restiamo poi imbalzamati. L'unico che ci allunghiamo è come le pecore, dopo ci alziamo, ora cosa facciamo questo? Chi è? Non c'è la capa della freccia qua. Il giocatore recupera, ascolta, stretching, destra, sinistra, andiamo giù, laterale, sulla punta. Approfittate per preparare il corpo a un altro esercizio, ok? Sciolto. Andiamo col palleggio, via! Oggi è mercoledì, 30 agosto, ecco in primo piano è tornato il nostro Alessandro, dopo un anno di fermo, qui abbiamo Emanuele nuovo, sul secondo allenamento, anche Bartolo è rientrato ieri, abbiamo anche il Danese, abbiamo Caran, è in fondo, mister Giulio, mister Di Giulio, Giovanni, ecco Bartolino, è rientrato ieri, tutto abbronzato, Michelino, tutti presenti, mancano alcuni ragazzi che stanno ancora in vacanza e alcuni ancora non rientrano. Ma si può dire che il blocco dell'anno scorso, dei allievi di quest'anno, e l'anno scorso erano giovanissimi, già stanno qua. Ecco Enrico, un 2003, Guido, il nostro Alessio, Manuele, Alessandro là in fondo, Lele, Nicola, Mata, Matteo, tutti qua stiamo. Nicolò, con la casacca bianca, insieme agli altri ragazzi nuovi, gli altri ancora non mi imparano i nomi. Qua in fondo c'è il dirigente Adriano.